Stavano cercando un porto tranquillo, non toccato da indagini, e noi abbiamo ideato una fake news. In questa vicenda abbiamo alimentato tante fake news. L'idea del porto di Trieste era una fake news, non un grammo di cocaina è entrato al porto. Fake news, creata appositamente dagli investigatori per rassicurare i narcotrafficanti della Colombia sul tragitto che avrebbe percorso la cocaina per arrivare in un luogo sicuro in Italia, da cui essere smistata. Questo è il ruolo che ha giocato il porto di Trieste durante l'operazione GEPO 2021, coordinata dalla procura del capoluogo Giuliano, che ha portato al sequestro di più di 4 tonnellate di polvere bianca. Gli agenti infiltrati, che si erano guadagnati la fiducia del colombiano clan del Golfo, hanno fatto credere che la cocaina potesse arrivare a Trieste tramite nave, ma così non era. Ma abbiamo fatto credere che così avveniva. Abbiamo controllato e abbiamo truccato la documentazione di copertura di una nave che effettivamente è arrivata al porto di Trieste, facendo credere ai trafficanti colombiani che conteneva la cocaina in un carico di copertura. Ma così non è mai accaduto. La cocaina è arrivata in tutt'altro modo. La cocaina arrivava per via aerea in zone scelte dalla Procura della Repubblica, per poi essere custodita e rimessa in movimento al fine di incastrare i compratori. Ma i narcotrafficanti colombiani continuavano a credere che la base logistica fosse a Trieste, nel suo porto. Esattamente. Noi l'abbiamo custodita noi, ovviamente in luoghi che potete immaginare sicuri nella disponibilità della Guardia di Finanza, da cui è uscita soltanto nelle quantità oggetto delle rispettive consegne per essere portati in un deposito che era nato poche ore prima che fosse consegnata ed è stato chiuso poche ore dopo la consegna. I successivi arresti in tutta Italia venivano effettuati dalle forze dell'ordine locali, le quali si prendevano il merito dell'operazione, in accordo con la Procura, per fare in modo che i criminali sotto la lente degli investigatori non capissero che si trattava di un'unica maxindagine. L'obiettivo era far credere loro che fossero tutte operazioni distinte, senza un unico filo conduttore. Grazie.